Buongiorno a tutti, mi chiamo Marco Chiesini, sono responsabile del Golf Club Verona da 2-3 anni e da 32 anni che lavoro qua. Questo è il Golf Verona, è stato fondato nel 1963, quest'anno festeggiamo i 60 anni di apertura. Siamo a Somma Campagna, il primo Golf nella provincia di Verona, siamo a 18 buche, è abbastanza grande, quasi su 60 ettari, c'è un po' di bosco però resta tutto campo. Le prime nove sono un po' più strettine, le seconde nove sono un po' più larghe, sono tutte costruite un po' dopo, dieci anni dopo. Abbiamo iniziato a lavorare con John Deere 25-26 anni fa. L'abbiamo preso la prima John Deere 2005 da Green, taglio perfetto, poi dopo abbiamo proseguito con le altre macchine con gli anni, ma è comunque una macchina che per noi va sempre molto bene. Dove se succede che rimane ferma, abbiamo un'assistenza molto forte, subito pronta, anche perché una macchina con un taglio liquidale non può star fermo più di tanto perché poi l'erba cresce e fa fatica a tagliarla. Il giocatore di golf preferisce sempre il campo rasato, perci avere le macchine ferme è un bel problema per noi. Con John Deere abbiamo visto che basta mezza giornata, abbiamo una macchina sostitutiva e nel poco tempo ce la riparano e perciò siamo veramente contenti. Questa è un asse, questa è una 7500 A, una macchina da fairway, una macchina che fa un'altezza di taglio da 10 mm a 22 mm, rasato e liquidale. Liquidale vuol dire che tagliare un giorno sì, un giorno no, perché se no se l'erba cresce un po' di più si fa più fatica a tagliarla e diventa gialla. Allora è una macchina molto importante, non deve stare ferma in certi punti. L'anno scorso è successo che è rimasta ferma per una centralina che si è guastata. Abbiamo chiamato il nostro buon amico Federico Perizzari che in tre ore ci ha riportato una macchina sostitutiva e siamo riusciti a fare il taglio ugualmente, che comunque nel giro di una settimana ha riparato la nostra e siamo andati avanti così. Ecco, non l'abbiamo perso neanche un'ora, si può dire, di lavoro. Praticamente una bella situazione, insomma, di lavoro insieme. È per quello che penso andremo avanti ancora in futuro.